Un caldo Natale a tutti a Pescara non è un augurio o un modo di dire, ma un modo di essere concretamente al fianco dei meno fortunati e delle persone svantaggiate. La Commissione Pari Opportunità ha deciso infatti di fare dono di coperte e di indumenti nuovi ai senza tetto della città. L'iniziativa è stata presentata in comune dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Luigia Montopolino, con l'assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio e i rappresentanti delle associazioni Ananche, Doriana Gagliardone e On The Road, Massimo Ippoliti, che hanno fornito oltre un centinaio di coperte e accappatoi ai senza tetto. Quest'anno la Commissione Pari Opportunità ha voluto dare un segnale diverso. Abbiamo voluto far capire che la Commissione Pari Opportunità lavora a 360 gradi anche con i più deboli, i meno fortunati e non solo con le donne. abbiamo voluto donare degli accappatoi e delle coperte ai senza tetto e con l'assessore Adelchi abbiamo concordato per la donazione su Ananche e su On The Road in primis che quest'anno gestirà il nostro piano freddo. Era un gesto per far capire che siamo vicini a coloro che sono meno fortunati e che la Commissione Pari Opportunità ha le porte aperte per tutti. È importante non farli sentire soli, è importante farli capire che c'è sempre qualcuno che a loro si tiene ed è pronto ad aiutarlo in qualsiasi momento. Per questo abbiamo voluto apporre sugli indumenti e sulle coperte una patch, una targhetta dove riporta a Commissione Pari Opportunità una donazione per fargli capire che è un regalo e li abbiamo pensati e non sono soli.